vai 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 toccava l'uomo dai 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 allora un murazzo che vorrei a perso vabbè con non solo locali però organizzazioni che aggiungono gli eventi culturali eventi ricercativi insomma che riescano a coinvolgere la gente e la cittadinanza direi ma soprattutto andare e cercare i gruppi di associazioni di persone anche quelle più diciamo orientale e più lasciate diciamo ai martini della vita cittadina vabbè ci vogliamo aperti innanzitutto più in gente in secondo luogo e di gente che faccia cose interessanti quindi non solo gente che fa la pipì nel po' ma gente che magari fa anche la pipì nel po' però nel frattempo magari qualche iniziativa qualche attività un po' di bella musica è sufficiente è sufficiente direi che è sufficiente ciao 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 ciao